Altre due bracconieri nella rete dei carabinieri. L'ennesimo episodio in provincia di Sondrio è delle ultime ore. Questa volta, ad essere finiti nel mirino degli uomini d'allarma, sarebbero due persone. Una di Piateda, l'altra invece di Arbosaggia. Entrambi sarebbero stati colti in fallo dai militari della stazione di Ponte. Che sul nostro territorio affiori puntualmente il fenomeno della caccia abusiva, non è certa una novità. A dicembre, due uomini, padre e figlio, erano stati denunciati a Tresivi per bracconaggio, sempre d'allarma. Poco tempo dopo di inizio anno, la stessa accusa era stata mossa nel confronto di un pensionato che si divertiva di seminare i chiodi lungo la strada per la Val Fontana, per evitare che le auto disturbassero le sue prede. Al momento, bocche cucite fra le autorità sul recente blitz del quale per ora non si conoscono i dettagli. Il capitano della compagnia di Sondrio, Serena Galvagno, non lascia trappelare nessuna informazione. Non smettendo però la notizia. Le indagini sono ancora in corso per sapere dove i due sono stati sorpresi e quali le azioni loro contestate. Ma una notizia in più c'è. I casi riferisce il capitano potrebbero essere anche più di due. Il quadro dalle tinte ancora molto fosche sarà più limpido soltanto nelle prossime ore. I carabinieri infatti hanno confermato che a breve sarà diamato un comunicato stampa.